ciao a tutti amici dello scorpione benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami scorpione tendenze energetiche romantiche per la seconda metà di luglio 2024 abbiamo la carta della stella amici dello scorpione potrebbero esserci nuovi obiettivi in vista una nuova speranza nuovi punti d'arrivo nuovi progetti anche o magari solo il nuovo idee adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi come sempre vi ricordo che le letture sono generiche sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto se non risuonasse nulla se voleste completare il messaggio vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida la trovate sotto nella descrizione del video c'è anche scritto come trovare l'ascendente le cuspidi parla della linea di tempo insomma è una guida interessante guardatela in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link alla playlist dell'oroscopo annuale e stagionale dove troverete sia l'oroscopo per l'estate che quattro oroscopi per le previsioni del secondo semestre del 2024 l'ultima cosa che ci tengo a dire è che farò poi un video non so ancora quando però comunque per tutto il mese di luglio c'è la lettura semestrale in promozione è una lettura a 20 carte vado a vedere diciamo i vari settori della vostra vita quello spirituale l'amore e gli affetti e il lavoro e l'economia per un raggio di tempo di sei mesi se volete saperne di più mi potete contattare via mail bene ragazzi andiamo a vedere quali sono le energie per i prossimi 15 20 giorni il papa l'eremita sette di coppe regina di pentacoli e regina di coppe re di coppe allora ragazzi questa lettura è indicata per chi ha già qualcuno in mente ma se siete single tenete diciamo per buono quello che dico essere la vostra energia se siete in una relazione parlerò della vostra energia piuttosto che di quella dell'altra persona ma tenete presente che potrebbero risuonare invertite dunque ragazzi partiamo da questo papa qui sento come il desiderio di ufficializzare qualcosa di portarlo a galla di farlo sapere al mondo 4 di pentacoli e re di spade probabilmente c'è una certa posizione che andrete a prendere nel prossimo periodo più per proteggervi che non perché siate convinti della posizione che state prendendo è come se avessi bisogno di un riconoscimento di una sorta di ufficializzazione devo vedere l'eremita 7 di bastoni eremita nuovamente 6 di pentacoli 8 di coppe ragazzi se ve lo devo dire tutta non c'è tutta questa bell'aria o come l'idea che anche se siete in una relazione ci sia come un senso di isolamento all'interno della relazione e vedere 7 di coppe re di pentacoli e regina di coppe e asso di pentacoli dunque voi potreste essere quelli che vogliono qualche cosa in più che hanno bisogno di delimitare i confini che hanno bisogno di sentirsi sicuri protetti e quindi avvertire una sorta di isolamento perché non c'è il tipo di risposta che voi vorreste dall'altra parte l'altra parte vi dico che è abbastanza distratta o distratto vi dico che ho anche come la sensazione che ci siano più scelte andiamo a vedere la regina di denari asso di spade non lo so come la sensazione ragazzi che ci sia bisogno di qualcosa di concreto per eludere questo senso di isolamento il parlare chiaro mi viene da dire anche con questo asso di spade cosa vuoi tu della vita cosa vuoi tu della relazione quali sono i nostri obiettivi insieme dove vuole andare la relazione la conoscenza che cosa vuoi tu che cosa ti aspetti insomma andiamo a vedere la regina di coppe asso scusate mago che un 1 un altro 1 devo dire è appeso voglio andare a vedere anche il re di coppe perché qui ragazzi ho come la sensazione che si voi avreste bisogno di più però in realtà i sentimenti qua sono abbastanza confusi o come la sensazione che l'altra persona tiri acqua il suo mulino ullala 3 di spade e che comunque insomma non si esponga più di tanto e sei di coppe è interessante perché sei di coppe mi risuona molto con la carta della stella e qui è come se qualcuno ragazzi tradisse un sogno tradisse un aspettativa e sento che questo parla parlare chiaro vi farà rendere conto che da un punto di vista pratico e concreto la relazione non è al punto in cui voi pensavate come se voi pensavate pensate pensavate di essere più in là di quello che realmente la relazione è per qualcuno si tratta di sacrificare un certo tipo di atteggiamento che avete all'interno della relazione diciamo per tentare di rimettere l'equilibrio ma io ho la convinzione che l'altra persona sia distratta ora potrebbero essere questioni familiari questioni pratiche potrebbe essere un'altra persona però se ve la devo dire proprio tutta con questo re di coppe al contrario la ride perché tutte le figure qua sono al contrario o come l'idea che non ci sia tanta sintonia in questi quindici venti giorni anzi sarà più ognuno per conto proprio ognuno con le proprie riflessioni e qui effettivamente ragazzi la chiacchiera potrebbe venirvi bene perché c'è come bisogno di fissare i nuovi obiettivi fissare nuovi orizzonti mi vien da dire può anche semplicemente essere una questione di tempo è prima che le cose si smuovano però per come la vedo io adesso c'è da fare qualche tipo di sacrificio e potrebbe sacrificare questo sogno che avete di manifestare di portare alla luce le cose è come se non fosse i tempi non fossero maturi e dall'altro lato c'è questa sorta di solitudine che potreste avvertire all'interno della relazione in questo anche isolamento o disequilibrio insomma svantaggio come la sensazione che vi sentiate in svantaggio all'interno della relazione al punto che poi insomma come la sensazione che parlerete chiaro e da lì potrebbe svilupparsi questo tre di spade quindi questa sorta di a non me l'aspettavo non mi aspettavo questa cosa tenete presente che l'asso scusate che la spada in questo asso di spade è una carta anzi è un attrezzo che taglia dagli pensieri ma essendo anche una carta collegata alla comunicazione può parlare di lingua tagliente quindi vi dico è come un si prendere posizione dire io voglio questo della relazione io mi aspetto questo mettiamo le cose in chiaro e probabilmente l'altra persona non lo prenderà troppo bene vi dico potrebbe per qualcuno potrebbe anche bloccarvi temporaneamente sul telefono dove insomma vi può bloccare perché si sente un po preso in contropiede come se fosse un qualche cosa che non si aspetta di dover gestire non sapendo come gestirlo semplicemente elude il problema evita il problema lo allontana però qui si tratta secondo me con la carta della stella di capire l'obiettivo comune della relazione in modo da diciamo così annullare questo eremita quando si hanno dei progetti comuni che sono quelli di cui andrete a parlare secondo me in questo periodo dove si lavora insieme dove si dà tutti e due per raggiungere un obiettivo cessa un po questa sensazione di isolamento di cui parla l'eremita e ma vedere ragazzi un cin dell'amore vediamo che cosa vi vogliono ok la giovane sposa wow e tenete presente che qui abbiamo un papa e quindi per qualcuno potrebbe fare riferimento a una relazione ben consolidata va bene andiamo a vedere significato sul libro della carta numero 54 per chi non lo sapesse tenete presente che ho comprato il libro in un momento diverso rispetto alle carte che quindi la traduzione è diversa difatti qui viene tradotto con la ragazza che si sposa quindi più o meno il significato lo stesso l'esagramma esorta la descrizione scusate l'esagramma esorta la discrezione attraverso l'immagine di una ragazza che va sposa essa deve mantenersi riservata e affettuosa e quando è sottoposta all'autorità rappresentata dal marito non deve fare colpi di testa né prendere iniziative sbagliate che porterebbero nell'ambito familiare solo disordine nel matrimonio come nelle altre unioni tra uomini c'è sempre il pericolo che la comprensione e l'armonia vengano rotte e questo succede quando si insinuano idee sciocche aberrazioni nate per lo più dalla noia dal fiacco abbandono dalla solitudine mi verrebbe da dire se invece i matrimoni le unioni hanno un fine stabilito l'obiettivo non si avrà tempo per le sciocchezze e si eviteranno le insidie della noia beh direi che questa carta calza proprio a pennello ragazzi è un po questa la sensazione il trovare un punto comune trovare un obiettivo comune c'è un qualche tema ve lo dico con il sacrificare qualche cosa può essere un vecchio sogno può essere un vecchio progetto perché magari c'è bisogno di crearne di nuovi però l'idea che passerete attraverso il dover tagliare qualcosa il dover affrontare qualcosa c'è molto forte bene amici dello scorpione spero che la lettura vi sia stata di ispirazione fatemelo comunque sapere nei commenti se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like potete iscrivervi condividere il video o anche lasciare una piccola donazione nel caso vogliate poi iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un email e vi mando poi la lettera di presentazione sul percorso che riguarda il come lavorare le credenze limitanti diversamente potete anche abbonarvi al canale se preferite andare a vostro ritmo e i temi trattati sul canale sono ben più vasti rispetto al percorso perché il percorso è mirato su certi settori della vostra vita mentre tutto quello che spiegano gli abbonamenti è diciamo una mappatura generale di come poter utilizzare l'energia a vostro favore per volgarmente parlando si chiama magia bianca cioè il cambiare il pulire noi stessi per manifestare la realtà che poi noi vogliamo comunque i titoli sono pubblici li potete guardare sono le playlist con le copertine lilla detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao